39 anni e non sentirli. Oggi Telebari festeggia il suo compleanno, sempre più orgogliosa di essere la più antica emittente televisiva privata in Italia. Data di nascita 19 aprile del 1973, prima di Re 3 e Canale 5. Una geniale intuizione dell'ingegnere Orfeo Mazzitelli, imprenditore lungimirante che primo tra molti colse le potenzialità del mezzo televisivo insieme al primo direttore dell'emittente Maria Amendola. Da allora Telebari è la tv amica dei baresi, che da sempre ne apprezzano lo spirito di servizio. Non un mezzo di comunicazione da mettere a disposizione del potente di turno, ma un emittente sempre pronta ad ascoltare il barese della porta accanto. Ma Telebari è anche da sempre una fucina di grandi talenti. Ha sfornato eccellenze del mondo del giornalismo, oggi firme accreditate della stampa nazionale come Paolo Longo, Attilio Romita e tanti altri. Estate ed è il trampolino di lancio di grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, un vero e proprio laboratorio di sperimentazione televisiva capace di creare format innovativi. Estate continua ad essere palcoscenico privilegiato e voce libera della città, sempre pronta a rinnovarsi negli anni e ad accogliere le sfide della modernità. Da cinque anni ha in Radio Bari una sorellina che cresce a vista d'occhio e non a caso è già diventata la radio dei baresi. E a testimoniare la gran voglia di crescere, laddove c'era l'anfiteatro televisivo, oggi c'è il Teatro Forma che sta per Fondazione Orfeo Mazzitelli a ricordare l'origine di questa splendida storia. E presto ci sarà anche Città delle Onde, la cinecittà barese. Senza dimenticare l'approdo di Telebari su Digitale Terrestre, una nuova sfida che il gruppo Mazzitelli è pronto ad affrontare con l'entusiasmo del primo giorno, forte del consenso dei baresi con i quali Telebari vuol condividere anche questo giorno speciale. Buon pomeriggio, ben trovati da Andreina Luzzito in diretta dalla redazione di Telebari. Come avete sentito, oggi Telebari compie 39 anni, una ricorrenza speciale e in molti ci hanno voluto fare gli auguri. Sentiamo. Oggi la storica emittente, Telebari compie 39 anni, il suo augurio Presidente. Ma 39 anni è una bella età perché diciamo cominciano a vedersi i tratti della maturazione. bisogna fare tesoro di tutta l'esperienza accumulata. L'emittenza locale è stato un momento importante di trasformazione della nostra società. I piccoli territori hanno imparato a darsi un vocabolario, a raccontarsi. La gente che normalmente poteva soltanto assistere al racconto dei macro territori invece è diventata protagonista delle storie. E voi avete anche determinato un controllo maggiore dei luoghi della decisione, della vita sociale. Insomma, tanti auguri a Telebari perché noi abbiamo bisogno di tanti fasci di luce che illuminano la nostra vita, che ci facciano capire quali sono le cose brutte che dobbiamo correggere e le cose belle invece che dobbiamo proteggere e conservare. Auguri a Telebari. 39 anni significa una storia di Telebari. La prima emittente che io ho avuto modo di poter vedere con i primi telegiornali, un emittente a completo raggio, a 360 gradi, che si interessava non soltanto di Bari ma poi anche di tutto il territorio della provincia di Bari. Io credo che sia stato un punto di riferimento e tuttora è un punto di riferimento di ascolto ma anche di confronto con l'intera comunità barese. Non ho che da augurare a Telebari almeno altri 39 anni di super vita. 39 anni non sono poi tanti, anche se per una televisione privata, per una televisione che ha sempre dovuto lottare nel mercato con i giganti, sono però un bel risultato. Telebari da 39 anni ci fornisce informazioni, ci dà stimolo, critica la politica ma qualche volta anche a seconda la nostra necessità di comunicare e di trasferire ai cittadini le tante notizie piccole e grandi che sono necessarie per svolgere questo ruolo, quello di cittadino, che diventa sempre più complicato perché le città sono sempre più complesse, sono macchine piene di meccanismi alle volte difficili da capire, ma Telebari è stata con noi per 39 anni. Si tratta dunque di una data importante e ci prepariamo al quarantesimo anniversario nonostante il digitale terrestre che tra breve irromperà nelle case dei baresi, dei pugliesi a partire appunto credo dal mese di maggio. Dunque tantissimi auguri a tutti coloro che hanno investito il loro danaro in questa televisione, auguri a chi ci ha lavorato, anche chi non ci lavora più, ma soprattutto a tutti quelli che hanno riposto in Telebari la speranza di un'informazione trasparente, utile, soprattutto legata alla vita quotidiana della nostra amatissima città. Cambiamo argomento, il centrodestra alla Regione Puglia dichiara il totale fallimento del governo vendo la stamane conferenza stampa congiunta dei capigruppo dell'opposizione, il servizio di Cristina Ferrini. Sanità, rifiuti, energia, infrastrutture, acqua, lavoro, giovani e politiche sociali sono i punti attorno a cui ruota il fallimento dell'attuale governo regionale, secondo i capigruppo dell'opposizione, Rocco Palesa del PDL, Francesco Damone della Puglia prima di tutto e Davide Bellomo dei Pugliesi, che oggi hanno presentato alla stampa un documento nel quale si denuncia il totale fallimento di un'amministrazione regionale che in sette anni non sarebbe stata in grado di mantenere gli impegni assunti con gli elettori. Pensiamo ai vari piani, da quello sanitario, a quello dei rifiuti, da quello energetico, a quello per il lavoro. Fallimento totale c'è su tutta la linea. Piani che quasi mai hanno trovato attuazione, essendosi spesso tradotti in leggi dichiarate illegittime della Corte Costituzionale, ne è calda una, tanto è una al giorno ormai. Il risultato è che oggi la sinistra governa questi settori nevlagici per la vita dei pugliesi non sulla base di una programmazione, ma alla giornata e inseguendoci l'emergenza, cercando di sanare queste questioni ormai incancrenite, alcune irrisolvibili perché le hanno complicate loro e che stanno pesantemente danneggiando i cittadini pugliesi sul piano generale e anche rispetto ad alcuni settori particolari, pensiamo per esempio a destabilizzati e quant'altro. Il fallimento politico dell'impostazione ideologica e programmatica del governo della sinistra alla regione è totale. Nel corso della conferenza stampa il capogruppo palese ha affrontato vari temi dalla sanità dove i pugliesi pagano 338 milioni di euro di tasse regionali aggiuntive all'anno per pagare i debiti di un presunto di servizio ai rifiuti dove in sette anni si è passati dall'11% del 2005 al 18% di raccolta differenziata, peggio della campagna dove in pochi mesi si è passati dallo 0 al 18%. Scarsi risultati, sempre secondo il capogruppo del PDL, sono stati raggiunti dal governo Vendola sul fronte delle infrastrutture e dell'acqua dove restano inattuati gli investimenti dell'acquedotto pugliese. E questa mattina si è riunita la commissione di manutenzione per discutere dei problemi legati all'edilizia giudiziaria. Ascoltato il coordinamento per l'edilizia che si è concentrato sulle difficoltà dell'edificio di piazza De Nicola. Queste in sintesi le richieste fatte al sindaco Emiliano. Procedere con i lavori di manutenzione del tribunale con particolare attenzione agli impianti di climatizzazione e agli ascensori e prevede la presenza di un rappresentante del coordinamento in commissione con funzioni consultive. Intanto oggi alle 15 il ministro Severino ascolterà in aula l'interpellanza presentata dall'onorevole Francesco Paolo Sisto. 3 milioni di euro per rifare strade e marcia a piede. Il via libera ai lavori della Giunta. Intanto continua la protesta dei giostrai che non accettano di essere spostati a pane e pomodoro per la festa di San Nicola. Ci dice tutto Silvia Di Pinto in questo servizio. Continua la guerra a mattonelle e traballanti, asfalto di velto e strade bucate. La Giunta comunale dà il via libera ai lavori di manutenzione straordinaria di strade e marcia a piedi per 3 milioni di euro divisi in 4 lotti da 750 mila euro ciascuno. A beneficiarne saranno i cittadini di tutte le circoscrizioni baresi a partire dai palesini della prima per finire con i pelosini della quinta. Via De Giosa, parte di Corso Benedetto Croce, via Papa Giovanni XXIII, piazza Umberto I a Carbonare, piazza Garibaldi, tanto per citare alcuni degli interventi previsti. Una buona notizia dunque, anche se i fondi a disposizione restano sempre troppo pochi per rimettere in sicurezza tutte le situazioni critiche di Bari. Intanto a Palazzo di Città continua la protesta dei giostrai che per la festa di San Nicola potrebbero essere trasferiti per questione di ordine pubblico dalla consueta location di piazza Diaz a via Ballestrero all'altezza di Pana e Pomodoro. E la morte del business, commentano, dopo una giornata di incontri non risolutivi l'appuntamento è rimandato a domani mattina sempre in comune per tentare ancora una volta la mediazione. Quando hanno fatto la riunione dovevano interpellare la nostra associazione e definire il problema qual era e trovare eventuali rimedi. Questo non l'hanno fatto, ora vediamo. Noi piantiamo su quella zona lì da circa 40 anni e adesso hanno deciso che noi dobbiamo morire. Significa la rovina di 10 famiglie perché noi abbiamo già provato ad andare in quell'area anni fa ed è stata una catastrofe finanziaria, ci abbiamo veramente rimesso. Oggi il giorno poi con la crisi acuita dalle euro la gente già spende meno, arrivare fino là sarà quasi impossibile. È destinato a dirigenti e funzionari delle ASL pugliesi il corso di alta formazione organizzato per il secondo anno consecutivo dall'assessorato regionale alla salute e dalla federazione delle associazioni regionali degli economi e provveditori della sanità. Si tratta di 100 ore di lezioni in cui i dirigenti potranno confrontarsi con medici e farmacisti al fine di migliorare il servizio sanitario ai cittadini. Il corso prenderà il via il 27 aprile prossimo. Credo che sia un grande segnale per il paese. La maggiore intelligenza delle città parte dal mezzogiorno, lo ha detto il ministro dell'istruzione Francesco Profumo presentando a Bari il bando Smart City and Communities finanziato con circa 200 milioni di euro per modelli di innovazione sociale rivolto a Puglia, Sicilia, Calabria e Campania. Credo che abbia un significato particolare e ha aggiunto anche la nuova modalità di rapporto tra il ministero e le regioni. In questi primi mesi abbiamo lavorato anche per creare posti di lavoro. Il paese ne ha bisogno in un settore che è quello dell'intelligenza delle città partendo dai bisogni dei cittadini. In chiusura il meteo, cielo nuvoroso, venti moderati, temperature comprese tra gli 11 e i 18 gradi. Io vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it e radiobari.net. Il telegiornale finisce qui e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.